Eccoci qui a casa di zia Isabella a fare la salsa di pomodoro. Vai Michele, gira la ruota. Barbara, mi senti? Sì, ti sento. Ci troviamo qui in un... E' benvenuto. A scolterò mi sembra il valle che è buono il suo sugo. L'abbiamo già fatto. Venuti giù tre giorni in produzione in massa. Ma te che hai venti giorni che sei qua, invece che andare in campeggio. Vieni qua a fare il sugo, che ti andrà giù la glicemia. Barbara, benvenuti in questo luogo tipicamente campeste. Uve. Cotto e mangiato? Cotto. Cotto e mangiato sull'altro c'è sull'geri.